Noi veramente speriamo che i parlamentari europei di tutte le forze politiche si rendano conto che è necessario attraversare i confini della politica perché questa si tratta effettivamente di un tema che non può essere ridotto a politica ma è un tema che riguarda la qualità dell'aria, l'ambiente e la salute dei cittadini sopra di tutto.